È vero che l'anno 2024, l'anno di Saturno, è il più importante, il più forte degli ultimi 100? Sono dell'avviso di sì, secondo me sì. Perché? Allora, innanzitutto è un anno bisestile. Anno bisestile sono gli anni molto più forti. Poi, perché è un anno di Saturno, anno 8, e l'ultimo anno 8 è stato nel 1988, poi perché è un anno che viene dall'ultimo anno bisestile, 2020, dalla pandemia. Pertanto la coscienza collettiva dell'essere umano oggi più che mai vive sulla paura, sul patos. Non ha ancora metabolizzato bene questo conflitto che c'è stato, anzi si dice e si narra che ci può essere una nuova pandemia che viene dal Giappone e che può colpire i bambini. Allora che cosa fare? Ma io sono dell'avviso che la più grande ricchezza che esiste al mondo è la conoscenza, il sapere, far sì che la mente e l'anima dialogano insieme. Perché quando l'anima va in risoluzione del conflitto, non solo è più forte, non solo alza le sue difese immunitarie, ma trova soprattutto una risposta positiva alla velocità emozionale. Allora Saturno colpisce due fattori, lo stomaco, il plesso solare e le ossa. Perché il meridiano del plesso solare tra le ossa sono proprio la svalutazione che Saturno dà come pianeta. Teniamo presente che il corpo umano è un corpo solido, dove l'energia che viene dall'universo dialoga con l'essere, dialoga con l'io. Tanto che noi siamo dei nostri genitori, il nostro corpo, ma la nostra energia proviene dalle stelle. Ed è per quel motivo che due gemelli sono diversi, perché hanno la stessa macchina, ma non lo stesso conducente. Allora ti voglio dire che venerdì 15 di dicembre alle 20.45 tengo un webinar totalmente gratuito dove ti parlerò di quest'anno potentissimo 2024. Nel primo commento puoi premere il link, lasciare la tua mail e puoi guardare questo webinar che sicuramente sarà molto forte e ti farà riflettere a 360 gradi. Il mio obiettivo è quello di portarti più strumenti che mai. Il mio obiettivo è quello di alzare le tue frequenze più che mai. In ogni caso, fantastico se ci sei, è tutto gratuito. Vai nel primo commento, premi il link e ci vediamo venerdì alle 20.45. Ciao!